benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio vi sta piaciuto tantissimo questo video, questa tipologia di video che mi piace farlo assolutamente infatti voi consigliateci sempre perché noi poi spurciamo, valutiamo eccetera questi mesi e questo mese ne abbiamo fatti tanti questo per il momento è l'ultimo proprio programmato per quanto riguarda le recensioni insieme ovviamente aspettiamo di questa box ok vai pesca, però ci sono due prodotti che mi fanno letteralmente paura allora no io non inizierei da questo io non inizierei da quello morbidiso morbidiso questo raga mi ispira tra cravings sponges sponge cake ok aspetta metterlo con all'interno penso che sia nell'altro non era latte ma era marshmallow però io questo penso sia latte mi ricordo questa cosa ce la disse una ragazza vai mamma mia l'italia mi fa di 5 a dare la 3 è pazza io ho visto l'unboxing andate ragazza La crema dov'è? Ce l'hai mangiato senza crema? Non c'era la crema? Buono? Sì? Come se c'è la crema? La crema non si sente. È un po' troppo dolce. Prefisco questo rispetto all'altro. Sì, questo è più buono. Molto più buono. Dolce ma molto più buono. La crema non si sente. La crema non si sente. È un pazzire però. No, dai. Mezzo accettabile. 5,5-6. Sì. Mi ha avuto 6, 6,5. Sì. Rispetto all'altro ci sta. Molto più buono. Poi questo era molto curioso. Knoppers. Con il latte. Latte nocciola. Così va bene? Sì, penso di sì. Ok. Risa gonfiata, non so questo. Vediamo. Vediamo. Mmm, non ispira. Mamma mia chi ci sta. Bellana quella. Eccola qua. Ma sta proprio tutte le strade, dove? E' troppo... Cioè, è troppo... Che ci sta qualche cosa sotto? Questo forse che si... Vediamo. Buono. Pure il cioccolato. Buono. Ce la senti tantissimo. E ti dirò... Questo mi piace di più rispetto al brownie di Anuta. Ok. Oppure confrontandolo proprio Anuta... È nocciola. È nocciola questo. Assolutamente. Un bel 7,5. Ok, per me. Buono. Adoro. No, mi è piaciuto. Felicita, felicita. Questi due, eh. Poi ce li provo un attimo. Provi l'altro. Provi l'altro. Provi io franco. Questi, per chi sa... Allora, ne abbiamo provato. Vi stacchio, vi lasciamo il video. Anzi, trovate tutti gli episodi sul canale. Penso che si vedono. La confezione... La confezione. Vabbè, però l'altro. I confezioni sono bellissime. Vaniglia? E' un pochino più buono. 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 Le la fai? Che carino Ma pure l'altro si presentava bene Boh Ah Boh per te non ti piace però ha un buon odore Sì Oh oh Ma metto un cake Eh questo già si Vediamo vediamo Ma lei alla fine ci aspettavamo peggio Cioè Ah com'è bello Proviamo? Io faccio vedere la mia spugnetta Ma mamma mia si sente questa cosa di fragole E poi è buono A me non mi piace No a me non mi piace Che buono Oh raga la fragole è buono Un po' chimico Vabbè normale Questo è buono Perché non ha Un sapore particolare Dentro è un po' secco però E' pure fragole Non dico assaggio che ti piace No a me non mi piace No a me non mi piace Non fa niente Fragole è un po' sciroppato proprio Cioè senti che Non mi piace andare da qua Però è buono Cioè si riesce a mangiare No questo Questo che vince su tutti secondo me Su cui vi provare Un po' di ciocco bianco Non lo so Questo si salva Yeah Metti dopo qua Questo è buono Buonissimo Questo No sei e mezzo No pure fragole Darei sette a vaniglia E sei e mezzo a fragole Ok Questo non l'ho mai provato Ma qui Ah niente Questa è proprio una nudità Sneakers Crispe L'altro abbiamo provato il bianco L'altro Lo sneaker bianco Scusa che differenza c'è questo mo Che questo al Questo soffiato Ok Vediamo Spero se è bene Spero già buono No comunque io sono rimasta contentissima Tra tutto il duccia raga Può sembrare una reazione Abbastanza esagerata Ma per chi ha seguito i video Ah ma solo due Eh ma adesso c'erano già un Un Sì Un uva Un uva Sneakers Questo lo metto qua Che mi scruccio di usare si sente il crunchy lo sai che mi ha ricordato ti ricordo quelle cose che facevamo con riso soffriato e mais eh scusami riso soffriato e caravello che c'è il cioccolato e brosolato con i mars sciolti no che lo vedi come facevamo sceglievamo tutti i mars e gli avevamo riso soffiato e poi il congelatore questo lo preferisco rispetto al bianco molto più buono quello bianco però pure era particolare no e ci sta è un bel set questo pure 8 perché gli è piaciuto è veramente buono ok ultimi due prodotti dolce e salato io direi prima con il dolce e poi con il salato noi proviamo a dicembre i twix i twix a biscotto vabbè loro se lo ricorderanno per chinger chinger i cookies della mars io adoro i cookies caramello e doppio cioccolato noi nel ultimo periodo un paio di mesi fa prendemmo la fissa per i cookies quelli là della scrive come si chiama quel marchio che fa i crispy no proprio la linea crispy si chiama crispy non mi ricordo ok ragazzi quel marchio ma per me superava pure Milka ma erano spettacolari come si chiama eh no eh crispy ma ragazzi io adoro i cookies io arrivo a dire che faccio con gli americani mammi non me ne chiudono oh scartala anche se non ho spettacolo anche se tutti ballano tranne te ah ne sono un sacco un sacco questo è il caramello comunque ho capito che il caramello lo sto bianco posso dire una cosa no non mi ha fatto però tu niente di candle lei ama la vuoi finire senti quella cosa salata a casa per salti tipo cacchi si chiamava no ti prego mamma mia un prodotto secondo me non mi ispira proprio ti ha la consistenza ma sono la stessa mano no a me già il mars non è che è bruttissimo cioccolato cioccolato non lo cioccolato caramello non si sente no mi piace mi ha voto in due mi ha voto pure per me cioè voglio una pelle di due cioè voglio una pelle di due e concludiamo questo video con una cosa molto classica che però ci sta perché dopo tutto questo dolce ragazzi deve stare almeno qualcosa di salato qualcosa di salato cerchiamo sempre di inserirlo forza altrimenti ah no sai che pensavo fossero quelle normali invece no perché sono barbecue barbecue aspetta così non so se si vede si vede ok così prego ok ti credi sono un po' forti queste non le abbiamo non le abbiamo provate mai non ricordo erano buone quelle a paprika mamma mia ma sono le caratteristiche se ne stanno quattro barbecue comunque è sempre più timo salato dobbiamo prendere una bella box salata dolce io non è che un po' cosa vuoi nel prossimo video salato nel prossimo video salato nel prossimo assaggio devo prendere delle patatine gusto pizza non le abbiamo erano ci vuole la box salata veramente buone no non sono neanche forti che ti dà fastidio no sono giusto comunque abbiamo concluso proprio la grande come l'altro video tra l'altro se già me lo siete visti o te lo vedi ok no boh cioè queste vai sul sicuro no ok rai abbiamo dei 8-9 ci stanno bene noi speriamo che questo video proprio questa tipologia di video in generale che abbiamo portato nel mese di marzo diciamo anche fino a metà aprile mi sia piaciuto mi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao